Cosa non si fa per tenere buoni i propri consiglieri di maggioranza dopo le ultime pesanti sconfitte del Partito Democratico? In questi giorni di festa che si stanno avviando a conclusione tra un brindisi e l'altro, ci sono gli incontri dove si parla del più e del meno. Ed allora ecco che si parla di finanziaria regionale e di futuro. Tra uno e il bicchiere e l'altro salta fuori da fonti della stessa maggioranza che i consiglieri che la sostengono, e forse non tutti, abbiano avuto un budget di un milione di euro da assegnare alle proprie associazioni o enti amici. Impossibile avere la certezza assoluta di quanto raccontatoci, ma la probabilità è molto alta visto che la fonte non arriva dallo scandinato del Partito Democratico. Alle opposizioni invece zero è stato dato. Nei giorni di finanziaria regionale in molti si sarebbero aspettati degli emendamenti da parte della maggioranza o comunque dei problemi all'interno di essa. Il clima disteso invece potrebbe proprio essere stato motivato da questo possibile contentino. In campagna elettorale la Presidente Sadacchiani e anche subito dopo come paletto mise lo stop a queste situazioni che peraltro erano molto più trasparenti di quella che forse oggi si sta consumando. Un'ultima cosa da segnalare è che la stessa fonte si è lasciata scappare e che i soldi assegnati sarebbero stati pure spesi male.